Ciao, io sono Matilde e leggo Presdonna. Tra i libri della Biblioteca di Presenza Donna ti consiglio di leggere La grammatica di Maria di Sor Naike Monique Borgo, edizioni San Paolo. Nel suo primo libro l'autrice propone una serie di meditazioni a partire da alcuni brani del Vangelo che hanno come protagonista Maria, la madre di Gesù. Ti consiglio di leggere questo libro soprattutto se operi nel settore pastorale perché il linguaggio esperienziale e il contenuto che parte dal vissuto lo rendono uno strumento particolarmente interessante. Nel libro è presente una parte centrale dedicata alle immagini che arricchiscono ulteriormente il percorso. La grammatica di Maria di Sor Naike Monique Borgo, edizioni San Paolo. Puoi prendere il presito nella Biblioteca di Presenza Donna. Nella descrizione del video trovi tutti i riferimenti. Leggi i pres donna.